Paschetta Zau ha su connoto e questo è il titolo della rappresentazione messa in scena a martedì a Nuro che ricorda i moti del su connoto avvenuti il 26 aprile del 1868. Una pagina di storia nurese spesso sconosciuta dagli stessi abitanti del capologo barbaricino che ha riavvocato la rivolta dei nuresi guidati da Paschetta Zau contro i provvedimenti adottati dalla loro amministrazione comunale che di fatto è un mese in vendita al miglior offerente delle terre pubbliche da cui la popolazione traeva sostentamento. Una rivolta promossa da una donna che portò all'assalto del municipio di Nuro che allora si trovava nel palazzo Martoni in via Chironi. Una ricostruzione che si è basata sulla ricerca storica del giornalista Michele Pintore che si è avvalsa dalla regia di Gianluca Medas. Gli attori protagonisti sono stati Vittoria Marras che ha impersonato la popolana Paschetta Zau e Marco Moleda che ha vestito i panni del poeta Salvatore Rubedu che assistette agli eventi e scrisse dei versi sulla rivolta. Oltre 50 figuranti hanno poi dato vita allo spettacolo che partendo dalla chiesa di Santucaralu ha ricostruito la Nuoro di due secoli fa. Un volgo di pastori e agricoltori cui l'edito delle chiedende e il provvedimento dell'amministrazione comunale per fare casa si avvolgeva a quella che era stata fino allora l'economia basata sull'utilizzo delle terre civiche da cui molte famiglie trovavano di che vivere. Un contributo fondamentale alla riuscita dalla rappresentazione è stata data dai gruppi Folk e Saludo, Sopraloco Nuoro e Santupredu. Poi la bravura degli attori ha fatto il resto rendendo credibile una rievocazione di cui non si parla sui libri di storia che molti nuoresi hanno conosciuto solo di recente. Una rappresentazione che sarà riproposta il 26 aprile del prossimo anno data in cui cade il 150esimo anniversario di quella che può essere definita una rivoluzione nuorese contro la prepotenza dei sovrani sabaudi e la volontà degli amministratori di allora pronti a piegarsi agli interessi dei più forti privando la povera gente di quel minimo di sostentamento di cui avevano goduto grazie alle leggi del suo connotto.